Giussi Turrisi ha presentato alla città il suo programma elettorale alla presenza di simpatizzanti e rappresentanti delle cinque liste a lui collegate, ovvero Partito Democratico, Sicilia Democratica, Libera Barcellona, Fuori dal Coro e Direzione Domani. Lo stesso candidato sindaco ha spiegato che la presentazione del suo programma elettorale nasce soltanto successivamente all'ascolto delle esigenze dei cittadini al fine di individuare le priorità sulle quali intervenire, specie nelle periferie dove Turrisi insieme ai rappresentanti della sua squadra si è recato allo scopo di recepire i bisogni della cittadinanza. Uno, l'obiettivo fondamentale dichiarato, quello cioè che Barcellona Pozzo di Cotto torni ad essere il punto di riferimento di tutto il suo comprensorio fornendo lavoro e attirando investimenti. Particolare attenzione sarà rivolta anche all'ordinario, alla manutenzione degli impianti sportivi e alla riorganizzazione della macchina comunale, cercando di arricchirla risolvendo il problema del precariato. Inevitabilmente posto di primo piano è riservato alle vicissitudini relative all'ospedale Cutroni Zodda. Secondo giusi Turrisi è necessario battersi senza alcuna forma di campanilismo affinché il noso comio abbia la dignità che spetta da una struttura chiamata a rispondere alle esigenze di un bacino comprendente 100.000 utenti. Richiamandosi all'incendio verificatosi nello scorso settembre alla raffineria di Milazzo, Turrisi ha spiegato inoltre che l'ospedale di Barcellona sarebbe stato più adeguato a garantire un servizio efficace in caso di emergenza poiché è più lontano dall'impianto.